La popolazione si divide ancora tra chi è vaccinato e chi invece non lo è. Questa mattina siamo andati a sentire pesaresi e turisti per capire cosa pensano a proposito del vaccino. Siamo vaccinati, penso che bisogna vaccinarsi. Lei l'ha fatto con entrambe le dosi o solo una? Entrambe le dosi, sì. Cosa pensa di chi non sia vaccinato invece? Peggio per loro. Io sono vaccinato. Entrambe le dosi? Sì, tutte e due. Cosa pensa di chi invece non sia ancora vaccinata? È meglio stare vaccinati per tutti, così andrà meglio per tutta la gente dopo. Sono vaccinata, ho fatto la prima dose, Pfizer. Cosa pensi di chi non sia ancora vaccinato? Avranno i loro motivi, credo che se una persona voglia vivere in questa società si debba anche attenere alle regole della società. Sono vaccinato, ne stavamo pensando proprio in questo momento, anche in vista del discorso che si sta facendo per il pass. Siamo indecisi in realtà, non siamo no vax, ci mancherebbe, però siamo un po' indecisi. Volevate aspettare ancora un po', perché? La nostra paura è un po' a lungo termine, non sappiamo quali potrebbero essere gli effetti, però dall'altro lato sembrerebbe che comunque farlo ti protegge e quindi quello ci sta facendo pensare che forse è meglio farlo, perché comunque è meglio proteggersi che rischiare. Certo, tutte e due le dosi e Moderna abbiamo fatto. E lei cosa pensa di chi invece non sia vaccinato? Che dovrebbe farlo assolutamente, se no mette nei guai anche i nostri poveri commercianti, artigiani e tutto, perché se chiudiamo un'altra volta finiamo proprio... Lei è vaccinato? Sì, Moderna, tutte e due le dosi. Cosa pensa di chi non sia ancora vaccinato? Che secondo me fa un errore, questo è quello che credo sia un discorso di rispetto anche nei confronti degli altri. Lei è un po' titubante, diffidente verso i vaccini? No, ma è tutta politica, è tutta politica, a me non la penso così. Io sto bene, perché se uno sta bene ci deve fare il vaccino, non ho capito perché. Faccio il secondo vaccino lunedì prossimo, ma ognuno è libero di fare quello che vuole e francamente trovo un po', come dire, medievale questa perquisizione che c'è qua, questa persecuzione, si dice in italiano, di separare chi e chi no. Si parla tanto di libertà e poi nel momento dove si dovrebbe provare come società che si rispetta la libertà, non si rispetta. Grazie.